Era l'agosto del 2007 quando in una calda serata estiva veniva inaugurato ufficialmente l'Anfiteatro del Lungomare di Nocera Marina, frazione di Nocera Terinese. Frammenti di luce si chiamava lo spettacolo che diede il battesimo artistico alla suggestiva location, un dramma di Virginia Barrett sulla vita e le opere di San Francesco di Paola nella ricorrenza del quinto centenario della sua morte. Di quelle gradinate gremite che nel tempo hanno ospitato eventi di ogni genere, ora rimane ben poco, l'arena si è trasformata in una piscina, la furia del mare ha sventrato l'Anfiteatro, la parte delle gradinate sul mare è completamente svanita, spostandosi poi sul lungomare lo spettacolo diventa ancora più inquietante, la passerella è crollata, le voraggini si susseguono una dopo l'altra, mentre l'accesso non è limitato ad alcuna recinzione, le mattonelle che componevano la pavimentazione sono saltate e la furia del vento e del mare le ha portate fino alla strada. Piegati addirittura i pali dell'illuminazione che paradossalmente diventano l'unico ostacolo al proseguimento di un'eventuale passeggiata, sostituendosi alle normali e ufficiali recinzioni per evitare possibili incidenti. Il tutto a poco dalla stagione estiva, in uno dei lungomare più belli della Calabria, diventato simbolo di un decadimento romantico ormai troppo visto. Tiziana Bagnato per la CNews24